Buongiorno, benvenuti a tutti a questa video lezione che avrà come argomento 5 regni degli esseri viventi attraverso cui imparerete a distinguere tra le varie categorie di animali e quindi incomincerete a classificare gli animali e i 5 regni siamo pronti e possiamo quindi cominciare quando pensiamo agli esseri viventi ovviamente ci troviamo di fronte a una moltitudine di specie, di varietà che vanno dagli animali più complessi a quelli più semplici, ovviamente dalle piante ai funghi ma non dobbiamo dimenticarci che questi sono solo gli animali o esseri viventi che noi riusciamo a vedere perché molti degli animali, molti degli esseri viventi sono in realtà invisibili come per esempio questo parameccio che è un microorganismo che vive nell'acqua ma anche nell'erba o nella terra oppure come i batteri che vivono praticamente ovunque come ad esempio nella saliva del nostro cane quindi proviamo a mettere un po' di ordine in questo enorme mondo degli esseri viventi come? guardando le loro cellule guardiamo le cellule di alcuni esseri viventi e vediamo se riusciamo a trovare dei criteri per dividerli in diverse categorie prendiamo un uomo, una cipolla, un porcino, il parameccio che vive nello stagno e un batterio ci dotiamo di un bel microscopio in grado di ingrandire migliaia di volte e quello che ci compare è questo per l'uomo vediamo tante cellule, tutte attaccate tra di loro e tutte dotate di un piccolo organulo interno che si chiama nucleo che racchiude il DNA la stessa cosa la vediamo anche nelle cipolle quindi tante cellule attaccate tra di loro, compatte tutte con dentro un organulo più grande che è quello che chiamiamo nucleo qua nella cellula però vediamo della cipolla vediamo anche degli altri organetti di cui parleremo più tardi il porcino, anche lui è composto da diverse cellule che però in questo caso formano dei filamenti allungati e non tutti compatti il porcino infatti è formato da delle ife, dei filamenti aggrovigliati che formano la sua struttura senza però riempire lo spazio completamente andiamo a vedere il parameccio e notiamo che è un essere formato da una cellula sola al suo interno notiamo tanti organuli tra cui anche il nucleo mentre per quel che riguarda il batterio non notiamo nulla al suo interno non troviamo nessuna struttura quindi da queste prime osservazioni proviamo a capire quali sono le differenze e le similitudini che possiamo trovare tra queste diverse cellule tra questi diversi esseri viventi e se possiamo dividerli in categorie in base a un criterio il criterio più semplice che può venire in mente è quello di dividere tra quelli che sono formati da più cellule che chiamiamo esseri pluricellulari come l'uomo, la cipolla, il porcino e gli esseri formati da una sola cellula e quindi quasi sempre invisibili ai nostri occhi che chiamiamo unicellulari come il parametcio e il batterio andiamo a vedere se possiamo fare altre suddivisioni in base alla presenza del nucleo per esempio vedete che l'uomo, la cipolla, il porcino e il parametcio sono tutti dotati di questa struttura centrale che racchiude il DNA della cellula che si chiama nucleo mentre il batterio il nucleo non ce l'ha possiamo distinguere quindi tra gli esseri viventi e eucarioti dotati di un nucleo e esseri viventi procarioti senza il nucleo i procarioti sono gli esseri viventi più primitivi quelli da cui la vita è iniziata e che quindi sono i parenti di tutti gli esseri viventi andiamo adesso invece a vedere gli altri organuli di cui abbiamo parlato prima questi organuli verdi piccolini che si chiamano cloropalasti che troviamo sia nella cipolla che nel parametcio sono molto importanti perché sono gli organuli che servono a queste cellule a svolgere la fotosintesi clorofiliana a produrre quindi il glucosio che serve alla pianta per vivere bene, gli esseri viventi che hanno i cloroplasti al loro interno vengono chiamati autotrofi perché sono autonomi e si producono quindi il cibo da solo da soli mentre tutti gli altri esseri viventi si chiamano eterotrofi etero vuol dire diverso quindi vuol dire che devono nutrirsi di qualcosa di diverso da loro si nutrono di altri esseri viventi di parti di altri esseri viventi o di resti di altri esseri viventi quindi abbiamo individuato tre criteri per classificare i viventi come? osservando le loro cellule riepiloghiamoli il primo criterio che abbiamo individuato per classificare gli esseri viventi è il numero delle loro cellule e distinguiamo quindi tra esseri unicellulari una sola cellula e pluricellulari tante cellule unite insieme a formare un individuo due secondo criterio presenza del nucleo che racchiude il DNA che serve per la vita della cellula e per la riproduzione distinguiamo in base alla presenza del nucleo tra individui eucarioti dotati di un nucleo e esseri procarioti in cui il DNA è questo filamento aggrovigliato sparso per la cellula senza ordine terzo criterio presenza o meno dei cloroplasti distinguiamo in base a questo criterio tra esseri autotrofi dotati di cloroplasti quindi in grado di svolgere la fotosintesi e esseri eterotrofi quindi non in grado di svolgere la fotosintesi che si nutrono di altri esseri viventi bene ora proviamo a mettere in pratica queste nuove conoscenze e a classificare gli esseri che avevamo già conosciuto attraverso questi tre criteri rifacciamoli comparire e vediamo che tutti gli esseri che come l'uomo sono pluricellulari eucarioti perché non svolgono la fotosintesi eterotrofi perché non svolgono la fotosintesi li chiamiamo animali tutti gli esseri come la cipolla che sono pluricellulari eucarioti perché hanno il nucleo autotrofi perché svolgono la fotosintesi li chiamiamo vegetali tutti gli esseri viventi pluricellulari eucarioti eterotrofi che però sono disposti in filamenti non compatti come gli animali quelli li chiamiamo funghi attenzione perché c'è una eccezione perché i funghi possono essere anche unicellulari è il caso dei lieviti che sono funghi invisibili a occhio nudo che però sono molto importanti perché ci consentono per esempio di far lievitare il pane o il vino o la birra tutti gli esseri unicellulari eucarioti quindi col nucleo e autotrofi sono dei protisti al loro interno però contengono anche alcuni esseri eterotrofi come ad esempio la meba che si nutre di altri esseri viventi e la vediamo qui in azione mentre allunga una parte della sua cellula unica per inglobare fagocitare si dice un parameccio e nutrirsi di lui quindi anche se sono esseri unicellulari sono in grado di muoversi spostarsi e nutrirsi di altri esseri viventi ma veniamo ai batteri i batteri e tutti gli esseri unicellulari procarioti e terotrofi sono definiti monere che al loro interno contengono però anche organismi autotrofi ovvero dei batteri verdi cianobatteri molto importanti perché sono i batteri che hanno permesso l'atmosfera di arricchirsi di ossigeno e quindi permettere la vita sulla terra ferma e non solo nei mari bene queste cinque categorie che abbiamo individuato quindi gli animali i vegetali i funghi i protisti e le monere costituiscono i cinque regni degli esseri viventi qualsiasi essere vivente voi conosciate rientra in uno di questi cinque regni e adesso è venuto il momento di mettere in pratica queste conoscenze segui queste breve istruzioni e vedrai che nel giro di pochi momenti anche tu sarai in grado di classificare gli esseri viventi osserva le immagini che seguiranno e compila la tabella legata nel sito indicando per ognuno degli esseri viventi le tre caratteristiche delle sue cellule il regno di appartenenza come in questo esempio se comparisse l'immagine di un elefante tu potresti dire che è un essere pluricellulare perché lo puoi vedere e eucariota perché essendo pluricellulare sicuramente non è prokariota e terotrofo perché si nutre di erba e non svolge la fotosintesi clorofiliana da queste tre informazioni sei in grado di stabilire che l'elefante fa parte del regno animale ricordati questi piccoli ragionamenti che se puoi vedere un essere a occhio nudo sicuramente è un essere pluricellulare perché tutti gli esseri unicellulari sono invisibili tutti gli esseri pluricellulari sono anche eucarioti perché abbiamo visto che i procarioti i batteri sono solo unicellulari se ti accorgi che un essere si nutre di altri esseri viventi sicuramente è eterotrofo se invece è in grado di svolgere la fotosintesi clorofiliana allora è autotrofo quindi abbiamo capito che per classificare un essere vivente non è sempre necessario guardare le sue cellule al microscopio ma si può anche capirlo semplicemente osservando le sue caratteristiche se hai bisogno di informazioni però puoi sempre aiutarti con internet bene io ti auguro una buona classificazione di questi esseri viventi e adesso lascio scorrere le immagini degli esseri viventi che aspetto che classificherai nella tabella pubblicata sul sito arrivederci spero vi sia piaciuto questo video didattico e alla prossima e alla prossima e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti. Arrivederci.